buongiorno ragazzi e ragazzi nuovissimo video buon inizio settimana allora partiamo belli carichi anche se proprio carichi non lo siamo perché questa notte qui in provincia di roma ha fatto un vero e proprio nubifraggio un temporale assurdo ragazzi da mezzanotte alle 7 del mattino c'è dormito pochissimo perché la casa lampeggiava dai tuoni vabbè a parte questo che so in tantissime zone d'italia c'è stato questo brutto maltempo a parte questo che poi dovrò pure ripristinare tutto fuori oggi vi voglio mostrare un prodotto fantastico io stessa ero scettica non appena l'ho acquistato e ho sono venuta a conoscenza diciamo di questo prodotto ero molto molto incredula ma dopo averlo utilizzato un paio di volte su diverse superfici perché è un prodotto idoneo per pulire pavimenti piastrelle mobili sanitari ci potete pulire tutto perché deterge sgrassa e lucida fa brillare tutto è pazzesco cioè non lo sto caricando tanto per perché ho visto dei risultati magnifici io oggi ve lo mostrerò lavando il pavimento perché comunque ieri ho avuto gente il pavimento ci sono pedate un po di sporcizie varie e soprattutto è per tutti i tipi di pavimento anche i marmi ci potete lavare il parquet tutto ragazze tutto ma detto questo non mi dilungo anche perché più tardi ragazzi devo riuscire con valeria perché ho ripreso tutti i giri per il battesimo devo scegliere il suo vestito i nostri vestiti insomma devo fare veramente tanti giri ma non mi dilungo più in chiacchiere vi mostro questo pazzesco prodotto iniziamo a pulire allora ragazze sia nel caso dei pavimenti o nel caso dei mobili riempiti nel caso dei mobili una bacinella oppure se dovete pulire le piastrelle secchi o bacinella dovete riempire 5 litri di acqua calda e questi ragazzi sono i prodotti che vi dicevo sono sembrano dei foglietti vedete con un foglietto riusciamo a pulire 100 metri quadri di come vi dicevo è completamente ecologico e ci potete pulire davvero tutto in più ci sono varie profumazioni questo non so che profumazione è esattamente perché io l'ho acquistato a caso su amazon e ne ho preso uno ma c'è ci sono i frutti ci sono i fiori tante profumazioni questo mi sembra di fiori ed è buonissimo ragazzi io ci ho già pulito diverse cose vi viene tutto splendente allora mettiamolo nel secchio si dissolve in un attimo poi va girata l'acqua e si inizia a pulire con questo ci si puliscono come vi dicevo 100 metri quadri grazie a tutti ragazzi con una passata al pavimento naturalmente dopo averlo aspirato alla perfezione adesso vi faccio vedere ho tutte le finestre aperte tranne quella del corridoio che è ribalta appena si asciuga vi faccio vedere il risultato ma è un foglietto ecologico veramente che deterge sgrassa lucida allora ragazzi si sta finendo di asciugare il pavimento io ho fatto anche le altre stanze non vi ho fatto vedere la ripresa poi tra l'altro ho anche valeria nel marsupio perché stamattina logicamente sono da sola e ma vi dico ragazze che il pavimento già lo vedete da così quanto è lucente che poi oggi non c'è neanche tanta luce perché ci sono ancora le nuvole io sono innamorata di questo prodotto questi foglietti poi non potete sentire il profumo che c'è qui in casa c'è pazzesco li dovete assolutamente provare cioè guardate ragazze guardate guardate che pavimento lucido uno specchio e come vi dicevo ci potete lavare tutto compresi i marmi perché non contengono prodotti chimici aggressivi perciò tutto ragazzi e tutto con questi foglietti risolviamo veramente tantissime pulizie un unico prodotto per pulire tutta la casa avete visto ragazzi c'è magnifico risultato straordinario poi se lo volete acquistare lo trovate su amazon vi aggiungo il link è un prodotto come vi dicevo ecologico quindi potete proprio star tranquille e inoltre costa pure poco e ha comunque una durata per diversi utilizzi perciò vi aggiungo il link nel box informazioni a questo punto concludo il video vi mando un bacione enorme grazie per l'affetto e per i commenti che mi lasciate lasciatemi un like per sostenermi iscrivetevi al canale e chi mi vuole seguire su instagram tiktok mi trovo come federicaswitte02 un bacione